DANGEROUS Dangerous, il titolo dell'album, registrato nel 1990-1991, composto da 14 tracce. DANGEROUS è l'ottavo album in studio del cantante statunitense Michael Jackson, pubblicato precisamente il 26 novembre 1991 dalla Epic Records. DANGEROUS segna un profondo cambiamento artistico per Jackson con questo disco. Abbandona il suo storico collaboratore, Jones, che fino a quel momento aveva svolto il suo ruolo di produttore all'interno degli album. Off the Wall, Thriller e Bad, e si affida ai produttori Bottrell e Riley, quest'ultimo conosciuto come uno degli ideatori del New Jack Swing, grazie a questo genere musicale che rappresentava una completa novità nel repertorio di Jackson. L'artista riuscirà a modernizzare i suoni e le melodie dei suoi futuri album. Prendendo nota dall'ufficialità, cito La copertina DANGEROUS è un'opera surrealistica realizzata dall'illustratore Mark Ryden, all'epoca esploratore di un nuovo movimento artistico che lui stesso definiva surrealismo pop. Jackson diede a Ryden alcune indicazioni di base, contando sulla creatività dell'artista e sulla sua passione per i manifesti del circo degli anni 30 del XX secolo. Qui andrà a spiegare il perché rappresentati molti animali. Gli chiese di utilizzare tutto ciò che aveva sentito dire su di lui per riempire il disegno di particolari, immagini e simboli che si rifacessero alla vita della star, costruendo una sorta di Luna Park visionario. Gli disse che voleva apparire misterioso e il risultato un dipinto a smalto acrilico. non fu pronto appunto prima dei sei mesi. Qui alleghiamo il discorso Luna Park perché non a caso. Neverland Ranch. Neverland Valle Ranch, conosciuto anche come Sicamore Valle Ranch, è una proprietà privata di circa 1100 ettari situata nella contea di Santa Barbara in California ed è nota per essere stata la residenza privata della superstar statunitense Michael Jackson che l'acquistò nel 1988 trasformandone una parte in un parco a tema per ricevere gli invitati e i bambini malati. Assumerà tutto un aspetto un po' inquietante andando ad analizzare bene la copertina. Ad ogni modo andiamo avanti. La copertina nel suo insieme sembrerebbe essere un'imponente maschera. Gli occhi di Michael sono l'unica cosa subito distinguibile. La bocca è quel cancello con la scritta Dangerous, pericolosa. E le facce di due demoni ai lati, un ambiente buio che la nostra mente registra già come diverso perché tutto il resto è uno spettacolo di colori, oggetti, animali, persone, esseri, forme e dettagli che fioriscono in ogni direzione. Il paesaggio, oltre il cancello, è un pugno in un occhio per la totale assenza di colore e la mancanza di animali. Una maschera serve a nascondere la reale identità di qualcuno o qualcosa? La maschera di Dangerous somiglia a un muro che non ci fa vedere cosa si nasconde dietro. Buona parte della critica e tantissimi fan pensano che in Dangerous ci siano messaggi subliminali e riferimenti all'ordine degli illuminati, alla massoneria, al demonio e chissà d'altro. E chissà se è vero. Infatti noi abbiamo messo il nostro. Gli eserciti di persone hanno perlustrato questa copertina cercando riferimenti a ogni possibile cosa oscura e complottista ma qui dentro c'è in particolare la vita di Jackson dunque sembra che Michael stia nascondendo qualcosa al suo pubblico o che stia cercando di dire qualcosa. La spiegazione più razionale è che Jackson si sentisse intrappolato nel suo personaggio schiacciato da tanta celebrità e volesse dirci che la fama non è tutto. Questo può essere il primo significato della copertina a primo impatto a seconda di come il nostro occhio la vede ad una distanza di 30-40 cm ma con uno zoom e una buona lente di ingrandimento il senso di questa copertina può cambiare e di parecchio. C'è da aggiungere che i disegni di Mark Raiden non hanno mai un solo significato o ne hanno molti oppure le sue opere non si spiegano del tutto. Infatti si andrebbe a spiegare come la copertina di Dangerous quindi è piena di contrasti gioca sempre su oggetti e significati diversi a volte opposti con due o più interpretazioni e questo è un gioco classico psicologico dell'esoterismo e dei massoni, degli illuminati che giocano con la psicologia specchia di invertire i simboli per creare più confusione possibile divide e t'impera come essere da una parte o dall'altra di una maschera o di uno specchio che ti fa vedere il lato vero e finto delle cose. Raiden realizza la copertina come il poster di un circo prendendo le esperienze di vita positive di Michael Jackson e anche quelle oscure dopo averlo conosciuto un po' meglio. Dandone lo specifico abbiamo il re cane e la regina colibri. Per ufficialità diciamo il re sarebbe Michael Jackson e Raiden sceglie il cane perché quasi tutto il 1958 compreso il 29 agosto giorno di nascita di Michael Jackson nell'oroscopo cinese era l'anno del cane. Raiden simboleggia Jackson ispirandosi al dipinto di Ingress Napoleone. Deone primo sul trono imperiale del 1806 la mano del re con lo scettro al celebre guanto bianco di Jackson. E' interessante notare che lo scettro del cane ha la faccia di un colibri alla sua estremità mentre lo scettro della regina colibri termina con il muso di un cane quindi anche qui si vanno a scambiare i simbolismi. Ma va a significare un'altra cosa cioè che ognuno influenza potere sull'altro uno di fronte all'altro, maschio e femmina, mammifero ed uccello. Comunque sia la regina è nella tipica posa che avrebbero Elisabetta o Vittoria nei ritratti di corte. Sotto il braccio sinistro tiene stretta una sfera molto simile al globo del sovrano di Inghilterra simbolo del potere di un monarca come difensore della fede o detentori anche, aggiungo, personalmente potrebbero essere anche detentori della conoscenza e del sapere occulto. I due animali diversissimi opposti e i due scettri incrociati forse simboleggiano due forze opposte in conflitto tra loro ma che si controllano a vicenda per mantenere un equilibrio il solito equilibrio dell'elite quindi l'elite è il pubblico nel mondo dello spettacolo o la popolazione contro i governi e le lobby sarebbe un commento di Jackson su un mondo che lui conosce alla perfezione l'industria dello spettacolo oppure sul mondo in senso globale restando in compagnia del re e della regina, i particolari si fanno sempre più misteriose alla sinistra del re c'è una scimmia con le ali da pipistrello è posizionata ai margini, curiosamente anche lei sembra stia controllando qualcosa in mano a due piatti questa creatura è un chiaro riferimento al romanzo Il meraviglioso mago di Oz di Frank Baum nel libro le scimmie volanti sono esseri malvagi a servizio della malvagia strega dell'ovest ed hanno un doppio significato di sottomissione un doppio significato, sì ancora una volta un doppio significato il primo dominio lo esercitano loro con la forza nei confronti dei più deboli il secondo lo subiscono a loro volto da una forza superiore, la strega, il romanzo di Baum questa creatura si serve del controllo e dallo stesso tempo deve temere quello degli altri proprio come il re, cane e la regina colibri ai lati della regina due passeri aprono il vestito dei colibri come un sipario per mettere in mostra il suo corpo fatto di ruote, dentate e ingranaggi il corpo meccanico può essere la personificazione del mondo industriale finto, inumano e pericoloso di Dangerous ma può anche simboleggiare la maternità e la nascita di tutti gli uomini dal corpo dell'uccello infatti esce una specie di cordone umbilicale alla cui estremità c'è una bolla con le sagume di un uomo e una donna al suo interno Adamo ed Eva, i primi due uomini secondo la Bibbia a sinistra di questa bolla c'è la testa di un ragazzo con la pelle metà marrone scura e metà chiara è un parallelo a Michael Jackson ed al colore della sua pelle che era cambiato dal 1986, anno in cui gli fu diagnosticata la vitiligine una malattia che distrugge la pigmentazione della pelle dalla corona della regina spuntano cinque angeli bianchi in fila che volano verso uno degli uccelli rivelatori della regina colibri il primo angelo sembra di stendere un braccio per fermarlo o per aiutarlo, impossibile saperlo ma il vero re degli animali qui non è il recane e non è un leone ma è una scimmia la scimmia sopra, sopra la fata è Bubbles lo scimpanzé di Michael Jackson e sta per essere incoronato da due angeli Jackson aveva acquistato Bubbles, scimmietta di otto mesi da una struttura di Austin che allevava primati per compiere dei testi l'aveva portato prima a casa Jackson a Encino e poi a Neverland i tantissimi animali dalla copertina di Dangerous sono il riferimento più limpido al ranch di Neverland Jackson ama gli animali e la loro presenza in casa è fondamentale per la sua vita perché, come dichiarato alla rivista Rolling Stone nel 1987 gli animali lo aiutavano a combattere la solitudine Bubbles simboleggia l'amicizia più importante sopra ogni cosa nel posto più alto della copertina sull'arco dell'ingresso in Dangerous ci sono altri animali che rimpiccioliscono man mano che scendono ai lati dell'arco il pavone simbolo di vanità e prestigio rappresenta la natura e la personalità di Michael Jackson è anche legato al mondo dello spettacolo che ti illude con la bellezza esteriore, la ricchezza e poi nasconde un mondo molto diverso l'elefante con il numero 9 tatuato sulla fronte potrebbe essere Gypsy l'elefante che Elizabeth Taylor aveva regalato a Jackson durante una visita a Neverland è interessante notare come il 9 sia un numero importante nella numerologia simboleggia il compimento di un ciclo, il passaggio da un piano a un altro infatti abbiamo un video proprio su questo il 9 è l'ultima cifra e in sé contiene il duplice concetto due significati di nuovo, di inizio e fine, morte e rinascita per questo è anche sintesi di tutte le cifre che vengono prima sulla numerologia cito questo articolo ma è interessante perché in Dangerous Jackson vuole rinnovarsi e aprire un nuovo ciclo sprigionando le sue idee più intime e per la prima volta con una copertina l'antilope, in una spiegazione greca e latina l'antilope ha cornaforti con cui taglia gli alberi ma con il rischio di ritrovarsi imprigionata e allora griderà non riuscendo a liberarsi questo animale descrive la tendenza dell'uomo a cadere nei vizi rimanendone imprigionato l'ape è uno degli animali più presenti nelle opere di Raiden per lui le api rappresentano l'anima perché sono piccole, caste, virtuose, nella simbologia antica occupano un ruolo vitale per il mondo ma nessuno, ma nessuno, non si sa perché, ha molto rispetto di loro su Dangerous l'ape potrebbe essere un legame all'anima di Jackson e ci sono poi un tricheco o un leone marino, un rinoceronte, un toro, un passero, una rana, un orango e tanti altri animali di ogni specie tutti animali che Jackson avrebbe potuto avere a Neverland, tutti animali in pericolo Pagliacci, ai lati della maschera due clown con i cappelli, uno ride e l'altro piange possono essere le due facce del mondo dello spettacolo, i due aspetti nella vita di Michael Jackson ovvero un successo infinito bilanciato da momenti di buio e difficoltà e nel 91 il periodo più nero della sua vita deve ancora iniziare i pagliacci rappresentano il bello e il brutto della vita di ogni essere umano, nessuno escluso oppure è la visione che tutti abbiamo del mondo industriale si ride con il prestigio, la ricchezza e la bellezza effimera si piange con la comprensione che non è tuttora quel che luccica perché è proprio il mondo industriale? perché è ciò che troveremo oltrepassando il cancello con la scritta Dangerous sembra proprio un mondo industriale il posto al di là della scritta Dangerous freddo come l'interno di una fabbrica, desolato come l'esterno di un mondo post-apocalittico infatti possiamo vedere anche nel carrello diversi oggetti gli animali sembrano vigilare sull'entrata in Dangerous oppure non si rendono conto di cosa stia accadendo una strada tortuosa come un nastro trasportatore conduce dentro questo universo di ingranaggi, torri, scale, valvole e un groviglio di tubi messi in moto in un complesso sistema che produce orrore e distruzione la terra è fissata da due strutture in ferro e tubature per facilitare il risucchio delle energie e sfruttare appieno le sue risorse il tappeto mobile è fatto di armi, teschi, missili, stelle e quant'altro arriva direttamente dentro e prosegue fin dove la copertina finisce la scritta titolo dell'album è un avvertimento per chi varca la soglia questo luogo e il sentiero che conduce dall'altra parte è la strada da seguire per rovinare il pianeta in poche parole l'entrata è libera, verità sacrosanta dato che siamo noi da avere in mano il mondo il biglietto da pagare è molto caro il prezzo da pagare è semplicemente la distruzione del pianeta gli animali diventano sempre più piccoli via via che scendono lungo i lati dell'arcata principale finiscono in questo mondo nascosto entrano a sinistra su una giostra mortale simile alla ferrovia di Neverland non a caso ed escono a destra morti scheletrici e risucchiati dell'anima e di ogni energia vitale dopo un percorso invisibile gli unici a uscirne indenni da Dangerous sono il piccolo Michael Jackson vestito come ai tempi dei Jackson 5 e l'attore Culkin, il bambino biondo con una M sulla maglietta protagonista del video di Black or White a mio parere il tetro percorso dentro Dangerous dietro la sua rassicurante facciata esterna è il significato centrale di tutta la copertina e ci sono almeno tre messaggi che Michael Jackson può dare la visione più generale è da noi al mondo lo sfruttamento della terra, degli animali, la società capitalistica e industriale ed il loro inesorabile meccanismo di autodistruzione sembra metterci in guardia sulla direzione che sta prendendo questo mondo e voleva dirlo la visione intermedia può significare che è Jackson a capire cosa sta accadendo nel mondo non vedendo nessuna cosa come prima vuol dire schiudere le porte della percezione accoggersi che nulla è come credevi che fosse una comprensione totale della vita per una persona che vive per una buona causa una strada difficile da percorrere come la via che conduce in Dangerous quando in ogni dove vedi morte, inganni, distruzioni, ingiustizie approvate dai governi e messe in vetrina dai media Jackson vede la bellezza esteriore del mondo ma sa distinguerne anche l'altra faccia reale nascosta e orrenda e vuole dirlo la visione intima, quindi un'altra ipotesi infine, nell'ipotesi più introspettiva è Jackson a dire al pubblico ed ai media che lui stesso non è in realtà come sembra da fuori sembra un re, ricco, famoso, amato e pure influente cosa vuol dire di più dalla vita? ma dietro alla maschera che indossa può essere una persona con infiniti conflitti sola, incomprese e perennemente infantile ritornerebbe il messaggio iniziale di un artista osannato imitato, amato, venduto, voluto, odiato e sfruttato che mette in soggezione perché ritenuto troppo famoso i soldi e le celebrità non sono tutto ogni uomo ha le sue paure e i suoi orrori angeli dorati in tutta la copertina in alto, vicino agli animali, ai lati degli occhi di Jackson vicino al re e alla regina, più in basso dappertutto la copertina è piena di angeli una parte della gente che ha studiato a fondo questa immagine ha notato che gli angeli sembrano tristi o arrabbiati ritenendoli gli angeli caduti di Lucifero per cui non è tutto oro quel che luccica ma potrebbero essere speculazioni un'altra probabile speculazione è il teschio in alto è il teschio in mano al bimbo sopra la mano destra dicono sia la testa dell'uomo noto come uomo elefante testa che Michael Jackson aveva cercato di acquistare anni prima senza successo la mano destra con le dita fasciate tranne il medio e pollice quella di Michael Jackson ecco un'altra speculazione su di lui perché si fasciava le dita le sono state dette di tutti i colori dai riti propiziatori a qualche malattia dalle mani ma la risposta è proprio in quel colore il bianco Jackson usava fasce bianche sulle dita simili a cerotti indossava accessori vestiti con particolari bianchi perché il colore rifletteva le luci del palco mentre ballava le persone in questo modo erano in grado di seguire i suoi movimenti anche nel buio di un concerto sopra la sua mano c'è un bambino nero forse simbolo della sua infanzia portato su un palmo di mano oppure riferimento all'evoluzione a sinistra sul muro dell'arcata in questa puoi vedere il tipico teschio pirata a tipi incrociate un simbolo di pericolo posto all'entrata della giostra e qui ci aggiungiamo il teschio osso i pilastri sono in realtà due sarcofagi dove si vedono una mano sinistra e un sole incisi si pensa che la mano sinistra rappresenti la via della mano sinistra un simbolo occulto legato alla magia nera si tratta di una filosofia che conduce una rapida evoluzione della coscienza ma esponendo la persona pericoli letali la mano sinistra è quindi un parallelo all'autodistruzione del mondo il sole ha significati diversissimi opposti anche lui può essere legato a dio o a lucifero o a nimrod meglio nel sarcofago a destra c'è il simbolo della pace più a sinistra è visibile una sagoma di michael jackson con gli occhiali da sole sotto il pentagramma in questa marea di simboli, animali e cose a metà tra segreto e mistero c'è anche una persona reale Barnum molte fonti riportano che quel signore calvo in giacca nera e camicia bianca sarebbe l'occultista Aleister Crowley ma potrebbe anche essere Taylor Barnum qui vi porto una foto si nota una certa somiglianza tra una sua foto reale e l'immagine di Indangerous e poi quando dici Barnum dice circo The greatest showman circense vissuto nel 1800 è il padre fondatore del circo per come lo conosciamo Barnum è il primo a intrattenere migliaia di persone guadagnando milioni di dollari grazie al suo circo animali, acrobati, illusionisti e la sua abilità a maneggiare la finzione sul taschino della giacca di Barnum c'è il numero 1988 molto difficile da vedere ed enigmatico da capire solo a sua testa un mago in miniatura con la bacchetta e il numero 7 stampato sul cilindro probabilmente il maghetto e il mago in miniatura e il mago in miniatura tra cilindri ricordiamo che l'occhio che tutto vede il principale marchio dell'ordine di Massoni clown animali cercenzi e maghi tutti impegnati in uno spettacolo gli spettacoli di questo tipo sono nati per distrarre il pubblico Da una realtà triste a volte terribile la comicità è per estensione il circo nasce come rito contro la sfortuna poi per ottenere favori da dio e in ultima per far trascorrere un momento piacevole al pubblico schiacciando i problemi della vita almeno per qualche ora Qui in Dangerous sembra accadere la stessa cosa sembra un tentativo di comicità per nascondere la realtà distrarre la gente da ciò che resta nascosto dietro il tendone nel nostro caso dietro la maschera Per anni ed anni ogni volta che abbiamo ascoltato il cd ci potevamo fermare e contemplare la copertina che diavolo voleva dire Ora potremo avere le idee più chiare Dangerous è come entrare in un paese dei balocchi progettato dallo stesso Michael Jackson costruito da Mark Ryden fatta apposta per tutti noi Annesso a quella sorta di tapirulan che porta al mondo rovesciato vediamo trasportati diversi oggetti raffiguranti appunto simboli negativi come armi, teschi, missili nucleari Questo mettiamola come ipotesi, un aspetto significativo riguarda la struttura d'arcate presente nel centro della copertina che ricorda dal punto di vista architettonico la fontana di Trevia a Roma Con la presenza di un altare seppur in modo mascherato alcuni ricercatori che hanno analizzato la copertina dicono che si è raffigurato il numero 101 che rappresenta il codice binario della realtà Ossia la parte occulta del mondo in cui viviamo che sembra non essere libero ma controllato Infatti l'altare presente anche nella religione cristiana simboleggia il sacrificio e quindi l'impossibilità di vedere la realtà nell'aspetto vero Probabilmente si tratta del messaggio più diretto verso gli illuminati e soprattutto verso lo stesso pubblico nel riferimento ad essi I numeri 1 sarebbero i pilastri lo 0 alla parte circolare al centro Particolare e inquietante è la presenza di animali che entrano nei vari ambienti per uscirne morti Con l'esclusione della figura di un giovane Jackson Insieme al suo amico fraterno Kalkin Continuando nell'analisi del contenuto della cover sotto lo sguardo di Michael Figura esserci un elefante La figura sacra Ghanash Con una zanna spezzata che nella religione hinduista rappresenta la capacità di superare ogni dualismo Infatti si parte dal presupposto che la realtà sia suddivisa in due elementi che non riescono a interagire casualmente l'uno con l'altro Inoltre in una mano sorregge appunto lo scettro del recane e nella mano opposta lo scettro della regina Martin Pescatore A sinistra del recane ecco un cupido che guarda quattro pesci simboleggianti le quattro stelle principali della costellazione dei pesci Questa parte di copertina sarebbe stata fatta secondo l'isperazione della mitologia greca Torniamo a Barnum che indossa una spilla sulla quale è scritto il numero 1988 con una freccia e tre zeri Dividendo il numero 1988 per il numero 3 otteniamo il numero 666 Ovvero il numero dell'anticristo Una rappresentazione grafica delle molteplici chiavi di lettura che probabilmente non ha mai esaurito di celare Ben altri messaggi subliminali